Sarà difficilissimo fare questo video, spero di trasmettervi un po' di emozioni, di rispolverare qualche feels passato. Siamo su Clash of Clans in un video, perché questo contenuto merita un video. Questa, ragazzi, è la fine del mio Clash of Clans. Perché dico la fine? È la prima volta nella storia del mio percorso di Clash of Clans dove arrivo a maxarmi e a finire i contenuti. Non c'è nient'altro, tutti quanti i miei municipi max sono stati maxati con un altro municipio successivo già disponibile. Il TH12 l'ho fatto quando uscì il TH13 e così via tutti quanti i precedenti. Qua, ragazzuoli, non c'è nient'altro da fare, anzi, le cose da fare sono essenzialmente queste. Le faremo tutte, maxeremo tutto, perché sì, siamo alla fine della Road to Ice Walls. Alla fine di un percorso durato otto anni e mezzo. Alla fine del gioco che Grax ha portato come primo gioco sul suo canale. Ed è stato il gioco, ragazzi, che ha permesso tutto questo. Se io sono qui ora dopo cinque anni è grazie a Clash of Clans. Io spero, ragazzi, di aver onorato questo game. L'ho giocato tutti i giorni. Ho fatto l'accesso tutti i giorni in questi otto anni. Spero di lasciarvi qualcosa di positivo e soprattutto nella speranza che esca il prima possibile un nuovo municipio. Così ricominciamo, ma tranquilli, le live ci saranno per prendere le skin, fare le missioni e così via. Questo è il mio villaggio, l'avete visto nel corso di questi anni, non l'ho mai abbandonato. Clash of Clans è nel mio cuore. Sono TH13. Vi chiedo, secondo me, ragazzi, 13.000 like. Sono abbastanza scontati. Iscrivetevi, campanella. Ah, giusto, potete inserire il codice creatore anche su Clash of Clans. Sta nelle altre impostazioni, è molto scomodo nel momento in cui lo mettete. Ve lo ritroverete, ragazzi, qua in alto a destra, nello shop. Ma non parliamo di shop, parliamo di villaggio. Mi mancano due muretti per chiudere completamente la Road to Ice Walls, ovvero tutte quante le mure a livello 14. Due bombe aeree e la campionessa reale. Altra precisazione che faccio. Ho fatto, ragazzi, le miniere e gli estrattori perché finire il villaggio senza una miniere e un estrattore che utilizzavo per consumare le risorse del pacchetto scenario non sarebbe stata una fine. Tranquilli, vi farò vedere come butterò via le risorse. Facciamo una capatina anche nel pass. Facciamo un video proprio vecchio stile, ragazzi, dove prendo cose. Facciamo di tutto e di più. Nell'isir costruttore lo posso buttare. Questo lo posso buttare. Il deposito lo prendo. Il 20% lo prendo. Come farò per consumare le risorse delle offerte? Io in questo momento sto buttando via 18 milioni di ore e 18 milioni di l'isir. Sono coperto, ragazzi, per nove scenari. Vi dico solo questo. Butto via il costruttore. Butto via anche la runa dell'isir nero. Non ci faccio assolutamente niente. Mi prendo la skin degli eroi. Un like extra qua. Un'iscrizione in più perché la vado ad impostare. E abbiamo finito tutto il set invernale. Eccola qua. Ho tutte le skin. Chi mi segue live sicuramente saprà che ho shoppato tutti quanti i pass. Codice Crax. Taggatemi su Instagram. Ragazzoli, non ci rimane altro che partire. Andare a fare gli ultimi attacchi. Maxare praticamente tutto. Rimanete per tutto il corso del video perché vi farò vedere una cosa. Un pensiero stupendo da parte della Supercell. Ma adesso non faccio spoiler. Vado, ragazzi, a fare la campionessa reale e la maxo instant. Così ci posso attaccare. E farmiamo le ultime risorse per chiudere la road. Sono tre attacchi molto veloci che facciamo insieme. Qui posso prendere il carretto. Lo prendiamo tanto per. Devo fare, ragazzi, l'elisir per il caravan blu. Così sblocchiamo roba da buttare via. Farmeremo semplicemente gemme. Vado a schippare. Da quand'è che non schippo in un video? Mamma mia, ragazzi. Ho finito Clash of Clans. Dopo otto anni. Quante soddisfazioni mi ha dato sto gioco. Mi ha cambiato letteralmente la vita. Per voi sembra una cosa scontata, ragazzi. Per me no. Questo game mi ha cambiato completamente il destino. Ho fatto cose, ho provato esperienze, emozioni che non avrei mai provato se non avessi cominciato a fare video con Megaz, e cito anche Megaz, su questo canale. Spero di averlo onorato abbastanza. Ma tranquilli che lo riporteremo. Anzi, lasciate un like, iscrivetevi. 41%, io faccio il 50%. Ci prendiamo, ragazzi, più roba possibile. L'Elysia l'abbiamo abbastanza consumato. Con tre attacchi mi sono dimenticato la pozione Cina Verde. Big fail. Può mancare il fail in un video di Clash of Clans? Assolutamente no. Io una pozione verde, ragazzi, ce la butto perché non è video senza pozione Cina Verde. L'abbiamo messa. Vado anche a registrare le truppe. Andiamo a fare subito. Devo fare anche attenzione. I super barbari. Eccoli qua, carini. Però questo video è troppo malinconico. Lo sto facendo, ragazzi, un po' pesante. Dagli, Grax, più gioioso perché è un evento incredibile! Mi sono maxato tutto. Ho finito tutto! Ho giocato Clash of Clans, ragazzi, in vacanza, al bagno, sotto la doccia, ovunque, in qualsiasi situazione. Ho fatto l'accesso a questo gioco, ho donato le truppe, ho riscosso le risorse dagli estrattori e miniere, ho fatto la difesa, ho fatto de tutto su sto game. E so contento. So contento. Quindi sì, da una parte sono un po' triste e amareggiato, ma dall'altra so veramente soddisfatto di quello che abbiamo fatto insieme e di quello che continueremo a fare perché seguite Grax. Il channel di Grax va avanti, sempre con Clash of Clans. Troviamo quest'altro in attivo. Io mi sono fatto praticamente un'ora di skippate. Non è vero, ragazzi. Dieci minuti di skip per trovare un inattivo buono, ma soprattutto per riprovare le sensazioni delle vecchie registrazioni, dove de notte Grax, e lo sto registrando di notte, giusto per rimembrare, skippava coi piselli Findus. Ve lo ricordate, regà, coi piselli Findus che combinava Grax perché il telefono esplodeva. Che filza, ragazzi. Prendiamo tutto. Buttiamo i barbari in maniera surgical. Queste sono veramente delle geek incredibili. Il 50% ovviamente lo facciamo. Buttiamo tutti quanti i nostri eroi skinnati. Ma non esisteva la campionessa. Il Grav Warden è arrivato verso la fine dei video di Grax e di Clash of Clans. Prima c'erano solamente Queen e King. E li avevo, ragazzi, a livello 40... 45-50. Che storia, boys. Io penso che il terzo attacco, ragazzi, non lo faccio. Perché se vado a fare il terzo attacco, finisce completamente la mia storia su questo game. Però bisogna farlo. Dato che non riesco a trovare l'ultimo inattivo, faccio un qualcosa che in pochi ricorderanno. Me ne vado in Spagna. Cambio lingua per trovare l'ultimo villaggio da almeno un milione di risorse. Chiudiamo con questo. Non so come andrà. Perché secondo me è failo di brutto. Però ci provo. Vediamo quello che succede. Io parto con tutti i barbari sceltozzi. Vado ad aprire. E ci metto pure una bella sganciavietro. Sì, ci piazzano gli eroi. Andiamo con i barbari. Fare il 100% è praticamente assurdo. Forse con qualche pozzioncina si poteva fare qualcosa in più. Ci abbiamo un sacco dei barbari. Andiamo ad attaccare magari anche un po' laterale per concentrarci. Abiliamo il Grand Warden nella fase iniziale. La Queen sta al centro. Abbiamo Enel, le mongolfiere. Quindi una bella velocità là sopra. Una velocità qua sopra. Una velocità qua. Ci abbiamo anche una furia in the mid. E la furia in the mid la metto sulla Queen. Così va a boostare tutto. Grand Warden... No, scusate. Mi abilità del King. È molto complicato ragazzi. Però con tutti gli eroi attivi sarebbe top chiudere al 100%. Forse ce la facciamo attacco strepitoso. Questa è una top chiusura. Sta per finire il capitolo più importante della mia vita. Perché Clash of Clans, ripeto, è stato molto importante per me. Spero che la community di Clash of Clans sia orgogliosa di aver avuto uno youtuber come Grax che nonostante i numeri, nonostante i tantissimi trend arrivati durante questi cinque anni che hanno stravolto completamente il mondo mobile, non abbiano però cambiato lo stile di Grax. Grax è rimasto sempre fedele alla sua etica, ha continuato sempre a portare quello che gli piace. Clash of Clans mi piace e l'ho sempre portato. Fatemelo sapere magari qui sotto con un commentino, soprattutto se ci sono utenti che mi seguono da tanto tempo. Perché questo video sicuramente farà un po' di giri strani. Io richiedo il castello. È il momento ragazzi, è quel momento là. Prima di fare le ultime cose, voglio farvi leggere una cosa che per me è veramente molto importante. Non mi sarei mai aspettato di ricevere un messaggio dal supporto di Clash of Clans con scritto Grazie a te per questo viaggio e vedrai che ripartiremo alla grande dal prossimo aggiornamento, chissà quando arriverà. Un saluto dal team di C.O.C. E qui colgo l'occasione per ringraziare la Supercell. Non so neanche come esprimermi, è praticamente una seconda famiglia. Ho dato tanto al gioco, ma loro mi hanno dato tantissimo, anche di più. Ripeto, mi ha stravolto completamente la vita, sono stracontento. Sarà soddisfatto di questo percorso fatto insieme. Colgo l'occasione per ringraziare il clan di Clash of Clans, i River Plate che ci sono sempre stati. Ringraziare tutti voi, iscritti, non iscritti, che magari passeranno su sto video e saranno curiosi di vedere Grax che finisce Clash of Clans. Iscrivetevi, abbonati, moderatori, tutti quelli che ci sono stati durante questo percorso. Io mi prendo questa gemma da parte del team di Clash of Clans, non ho parole, è un qualcosa di incredibile. Prima faccio le strutture, poi finisco le mura. 4 milioni. Qua abbiamo finito pure la missione, ma non ci interessa. Altra bomba aerea, 4 milioni. E la vado, ragazzi, a fare con un martello e un libro niscente sprecati, ma non ci interessa. Rimangono due muri. Vi faccio vedere anche questo stile, ragazzi. Rimuovi tutto. 298, ne rimangono due. Per arrivare a 300, 4 milioni e 8. 4 milioni e 8. E ho finito Clash of Clans. Ci ribecchiamo al prossimo aggiornamento. Ragazzi, ho completato 8 anni di gioco. Prendo la cassetta di gemme. Ancora non sono tutti disponibili, attenzione. 3, 2, 1. Todos los costruttores, ragazzi. Lasciate perdere. Andiamo in italiano al volo. Questo è il mio villaggio totalmente maxato. 3.400 coppe. Beauforts è destino. Tutti i costruttori disponibili. Tutti i costruttori disponibili. Ora, vado nel pass. C'era un libro degli edifici. Va bene, io ho utilizzato il libro onnisciente. Ce ne frega niente. Ho arraffato tutto. Ok. Questi sono i vantaggi. Prenderemo risorsa all'infinito. Sicuramente shopperiamo i prossimi passi perché sono un collezionista di skin. Le ho tutte quante sbloccate. E questo è il set invernale completo. Anzi, facciamo anche un check delle skin. Così vedete il mio progresso nell'account. Magari non siete passati in live. Ho tutte quante le queen. Ho tutti quanti king. Tutti quanti i gran sorveglianti. E tutte quante le campioni seriali. Magari questo video mi serve pure come check per eventuali nuove serie. Chissà come si chiamerà la futura serie delle mura. Come saranno le mura? Le mura di livello 15. Quello che sappiamo è che questa è la fine della Road to Ice Walls. E questa è la fine del mio villaggio di Clash of Clans. Quando arrivare al prossimo municipio? Non lo so. Vi chiedo un like, l'iscrizione e la campanella. E spero con tutto il cuore di avervi fatto compagnia e strappato un sorriso durante tutto questo tempo passato insieme su Clash of Clans. Sono veramente contento ragazzi. E strasoddisfatto di essere rimasto sempre con la stessa etica e stessa linea di pensiero. Ciao belli miei. Ciao a tutti. Non è un addio, è un arrivederci. Ciao.